Ciao da Francesco di Portierecalcio.it In questo video vi presento gli Ergonomic 360 Supergrip HN modello di punta della collezione invernale 2015 Hullsport La calzata del guanto, almeno nella fase iniziale, è un po' complicata perché il polsino ignoprene è decisamente stretto però poi una volta entrata la mano l'operazione si rivela più facile del previsto Le prime sensazioni che si ottengono sono quelle di un guanto mediamente massiccio ma decisamente comodo e morbido I colori scelti da Hullsport per i modelli top di gamma sono il nero e l'arancio arancio di cui è fatto il Supergrip il nuovo lattice top della casa tedesca che promette prestazioni superiori all'Absolute Grip Plus e a tutti i lattici professionali delle altre marche In sostanza la promessa prevede un miglior grip sull'asciutto anche sul bagnato ma soprattutto una resistenza superiore all'abrasione rispetto agli altri lattici professionali ulteriori caratteristiche sono la tecnologia 360 praticamente la cucitura anche sulla parte anteriore del guanto del lattice Supergrip lo shock zone, l'imbottitura praticamente del dorso poi un ulteriore dettaglio sempre del 360 sul lato del mignolo e l'inclinazione preformata di 25 gradi che dovrebbe servire a migliorare la fase iniziale della presa del pallone Insomma una serie di dettagli che mostrano la cura riservata nella realizzazione di questo prodotto davvero di altissima qualità con un lattice nuovo ed innovativo Concludo quindi consigliandolo vivamente agli amanti dei guanti Hullsport e a tutti coloro che amano guanti di altissima qualità Grazie mille! Grazie mille!